L'ordine è arrivato all'alba di questo giovedì. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha comandato all'esercito federale di lanciare l'offensiva finale contro le forze separatiste della regione del Tigre. Era una mossa attesa dopo la scadenza dell'ultimatum lanciato domenica da Addis Abeba nei confronti del governo locale. L'offensiva si concentrerà sulla città di Makale, capoluogo della regione. Nel comunicato pubblicato sui social, Ahmed ha assicurato che le forze federali faranno di tutto per proteggere i civili e per evitare che la città subisca gravi danni. Stando al premier, nelle ultime 72 ore migliaia di militari e membri delle milizie locali si sarebbero arresi alle forze federali. Il conflitto nella regione settentrionale è cominciato lo scorso 4 novembre. Stando a molteplici fonti avrebbe causato migliaia di vittime e costretto più di 40.000 persone a varcare il confine con il Sudan.